Allora, mi avevano pronunciato un percorso wellness, sti cazzi sto a morire Che dici Germà? Sto panorama, sto panorama A Iorio, statene a casa te, non veni che non è bello Comunque devo fare un ringraziamento speciale a Marco Iorio che mi ha introdotto in questo fantastico mondo Mo lo introduciamo noi, a modo nostro però